Ora, primo possesso per il Locri con Aquino che cerca Carella. Una gara che è in una fase di studio, ma è il Locri per ora ad agire meglio in fase offensiva. Furina, lo stacco di testa, Carella! La sblocca il Locri! 1-0 per la società Amaranto. Sbagliata la sua misura, Fiumara, bravissimo nell'incursione. Fiumara tenta il tiro, bellissimo il tiro di Fiumara! Yanni in due tempi blocca con Bagliè. Che vada Aquino, Aquino profondo, cerca Carella. Errore di Greco, Carella! Raddoppia in Locri, ma pessimo, pessimo l'intervento difensivo di Greco che infatti alza la mano e chiede scusa. E Ficara, bravissimo in dribbling con una pirouette, ispira, palla per Furina. Furina in aria, Furina, serve Ficara. Il tiro di Ficara, bellissima l'azione dell'Ocri. Bella l'azione dell'Ocri, Ficara ancora in posizione effettiva. Furina in posizione regolare, viene spinto. Fallo e cartellino rosso per Fiumara. Batte Ficara, va lontana, ancora Luca. Dodaro la mette in mezzo, Furina di testa. Si conclude qui la prima frazione di gioco dal Corrado Alvaro di San Luca. Il gioiello di casa. Leveque, il cross in mezzo, bello il cross di Leveque. Palla per Alin Reinero, che schiaccia di testa. E Yanni con il piede. Effetto un miracolo. La rimette in mezzo a Reinero. Salvata, Greco! La riapre San Luca! La riapre il San Luca con Marco Greco. Ficara. Palla per la Rosa. Il tiro di la Rosa, traversa. Ha spaccato praticamente. Ficara, il tiro ancora. Ficara. Bravissimo, Ficara in aria. Ficara col sinistro. Goll assurdo di Alessandro Ficara. Che gol ha fatto. Ficara ancora col sinistro. Cerca l'inserimento di Dodaro. Dodaro stoppa, tira. E Luigi Dodaro la mette. Battista. Pelle. Ancora Pelle. Rientra sul sinistro. Bello il tiro di Pelle. Yanni. Leveque ancora in dribbling. Leveque in aria. Leveque. Leveque in percussione. Leveque. Mamma mia cosa ha fatto Alessio Leveque. Raso. Bravo, Raso nello stop. Bravissimo nella ruleta. A dare palla a Leveque. Leveque ancora. Leveque tenta il dribbling. Non può fare tutto da solo. Però Ficara. Franchamente ha fatto una partita mostruosa. MVP. Solo applausi. E prende anche un bel colpo da Spiraccio. Calcio di rigore. Netto. Per il San Luca. Ancora Pelle. Pelle sul dischetto. Va Antonio Pelle. E la rete. San Luca a due. Locri quattro. Ancora in percussione. Pelle. Il tiro clamoroso. E con questo tiro di Pelle si chiude qui la seconda frazione di gioco.